Lascio con dispiacere Laila, ma farò cose nuove. Gaia Girace, la giovane attrice che dà il volto a Laila nell'amica geniale annuncia con dispiacere che lascerà il suo oramai iconico personaggio dopo i primi tre episodi della prossima stagione della serie TV Day Record. In un'intervista a fanpage la Girace ha affermato, mi spiace lasciare il personaggio di Laila perché ci sto lavorando da tre anni, sto crescendo con lei e mi spiace lasciarla a qualcun altro. Spero che chi prenderà il mio posto la ami almeno un centesimo di quanto la amo io. Di progetti futuri, per ora, non si registrano tracce o titoli, nemmeno sul suo classico e il social del suo profilo Instagram, anche se il desiderio è quello di continuare, volevo fare l'attrice prima di incontrare Laila, così sarà anche dopo. Gli elogi al regista Saverio Costanzo si sprecano, è il mio punto di riferimento, è stata la prima persona che ha creduto in me, ma c'è anche un piccolo retroscena sull'oramai celebre Nam de Plume di Elena Ferrante, si faceva sentire soltanto via mail per dare indicazioni qualche volta sulle scene di estrema importanza. Quando arriva a noi qualcosa di lei, siamo tutti più felici.